Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Nel corso di una recente apparizione su TV Play, l'esperto giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha offerto una visione intrigante sulla soluzione di Francesco Acerbi. Biasin, con la sua consueta franchezza, ha commentato le reazioni accese suscitate dalla decisione del giudice sportivo. Non si è mostrato stupito dalle accese polemiche, attribuendole al fervore dei tifosi. Le reazioni forti dopo la decisione del giudice sportivo non mi hanno sorpreso affatto, ha dichiarato. Penso che siano reazioni dettate principalmente dal tifo personale, purtroppo. Biasin ha espresso rispetto per il dilemma del giudice sportivo, sottolineando l'arduo compito di conciliare giustizia e mancanza di prove concrete. Non sarei mai voluto essere nei panni del giudice sportivo, ha ammesso. Dal punto di vista giuridico, ha agito in modo sensato affermando di credere a Juan Jesus ma, senza prove concrete, non può condannare Acerbi. Tuttavia, dal punto di vista morale, Biasin ha criticato la decisione del giudice sportivo, definendola «assurda» per le implicazioni sull'immagine e non solo. Ha inoltre difeso Juan Jesus, sottolineando che si è trovato a fronteggiare la situazione da solo, suscitando in lui un senso di compassione. Analizzando il comportamento di Acerbi, Biasin ha espresso dubbi sulla sua innocenza, suggerendo che la mancanza di una reazione più accesa potrebbe indicare un possibile fondamento nelle accuse. Se fossi al posto di Acerbi e venissi accusato di razzismo sul campo, impazzirei, ha ipotizzato. La mancanza di una reazione forte mi fa sospettare che qualcosa sia effettivamente accaduto. Biasin ha posto l'accento sulla distinzione tra il verdetto giudiziario e le implicazioni sul futuro di Acerbi negli stadi. La questione non finisce qui, ha affermato con convinzione. Ha poi sollevato un punto cruciale, osservando che l'incidente non dovrebbe essere trattato come un caso isolato di razzismo nel calcio italiano. Dovremmo essere più attenti a valutare criticamente le questioni quotidiane, ha esortato. Altrimenti rischiamo di trasformare queste situazioni in meri aspetti del gioco e renderci ridicoli. In conclusione, Biasin ha alimentato il dibattito sul razzismo nel calcio, incoraggiando una riflessione più ampia sulle questioni sociali e culturali che permeano la nostra quotidianità. La sua visione schietta e appassionata ha sicuramente suscitato l'interesse degli spettatori, contribuendo al dibattito in corso.